Palla nelle mani di Turner, 42 secondi, 41, Turner, arresto, tiro, e stavolta trova una bomba. C'è su di lui Sorrentino, ora va a Mascolo, palla per Tessitori, che va a schiacciare. Siena in attacco con il tentativo e lo schiaccione da parte di Ibenx. Giugno contro Benvenuti, scarico, che diventa preta di Chris Roberts, che può volare a schiacciare una mano. Ora fin la palla per Tivens, che va a schiacciare. Trovare una facile conclusione realizzativa la trova con Zanelli, che però non riesce a trovare il canestro. Ci riesce però William Mosley. Siena in attacco con Zanelli. E' controviato per V-Locke, Diadroschiana per Zanzeo. A scacciare! Ancora, Linza un assist meraviglioso, dietro la schiena, per Marcius, che canestra, una delle più belle viste eleniamo quest'anno. Bellissima azione per Casale! Bellissima azione per Casale! Bellissima azione per Quina fondi! Bellissima azione per Ancora! Bellissima azione per N qualcosa? Bellissima azione per C